Ci saranno anche il Presidente del Senato, Piero Grasso, e il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, all'Ocri per la giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime della mafia. Entrambi sono attesi il 21 marzo, due giorni dopo la visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il guardasigilio Orlando interverrà a margine di un seminario su libertà di stampa tra minacce e querele temerarie. Il contributo dei giornalisti italiani nella lotta alle mafie. In programma alle 14.30 all'auditorium del Centro Pastorale in Via Caprera. Il Presidente Grasso sfilerà invece nel corteo di martedì mattina. L'Ocri sarà anche protagonista sabato 18 marzo con l'incontro tra i familiari delle vittime in programma alle 17.30 presso l'auditorium Vescovile. Il piatto forte sarà tuttavia domenica mattina quando alle ore 10 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà i familiari delle vittime allo stadio comunale. La 22esima giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime e delle mafie si svolgerà a L'Ocri in contemporanea in oltre 4.000 luoghi in tutta Italia. Il raduno dei partecipanti è fissato alle 8 presso il lungomare lato nord di giorno 21 marzo. Seguirà poi la partenza del corteo un'ora dopo con arrivo in Piazza dei Martiri per la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie e gli interventi di Libera, avviso pubblico e dei familiari delle vittime. Anche quest'anno Libera organizza, grazie alla collaborazione di molte associazioni, alcuni momenti di approfondimento sul tema delle mafie che si svolgeranno nel pomeriggio del 21 marzo. Le location scelte dagli organizzatori per gli incontri saranno l'auditorium Vescovile in Via Caprera, il Palacultura, l'aula Magna del Liceo Mazzini e l'aula consigliare del Palazzo di Città. Tra gli ospiti anche il procuratore della DDA Federico Caffiero Derao, intanto gli amministratori locresi con in testa il sindaco Giovanni Calabrese saranno in prefettura, oggi a Reggio Calabria, per mettere a punto gli ultimi accorgimenti a garanzia dell'ordine pubblico.